lui metterà in difficoltà se stesso in questo modo perché un paese complesso e evoluto come il nostro discutere nel senso faccio come dico io dopo l'ho sentito anni addietro mi ricordo c'era un altro in dialetto lombardo che diceva che pensi mi non so come si dice in toscano grazie